Completato il restauro della parete meridionale della corte interna del castello aragonese di Taranto. Intervenire sul patrimonio storico architettonico della nazione fa parte della nostra missione, ha detto durante la presentazione dei risultati il comandante interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro. Significa proteggere e difendere la cultura del paese. La Marina opera a tutela, a difesa degli interessi nazionali, beh la cultura è un interesse nazionale anche. Ed è per questo che ci adoperiamo, perché questo castello di fatto è un veicolo di contaminazione nei confronti dei giovani, nei confronti di una cittadinanza con cui il legame è ovviamente indissolubile. Ciò che è emerso con i lavori di restauro è di elevato interesse storico e finalmente consegna una certezza che è stata annunciata dall'ammiraglio di squadra Francesco Ricci, curatore del castello aragonese. Questa torre che era il maschio del castello Suovangioino, sia il corpo di fabbrica che sta, diciamo, apponente di questa struttura che voi potete vedere dal piazzale, beh siamo sicuri che queste appartenessero, siano appartenute al castello Suovangioino. Intanto l'opera di restauro prosegue come annuncia la soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. Una storia veramente millenaria, sicuramente i dati che otterremo unitamente a tutto quello che è stato acquisito a partire dal 2003 a oggi ci aiuteranno anche con un progetto di valorizzazione che porteremo avanti insieme alla Marina Militare in condivisione di intenti e di opportunità sicuramente per tutti noi e per il territorio.